La storia non si dimentica, oggi è una giornata importante per il Conservatorio Rossini perché celebra e dedica a due suoi ex maestri due aule del Conservatorio. È un momento molto bello, sarei di dire, toccante perché si vanno ad esplorare valori che non dobbiamo mai dimenticare come la responsabilità, il merito individuale, l'attaccamento al proprio ruolo educativo. Quindi oggi noi abbiamo dato riconoscimento a delle persone che hanno caratterizzato la fase del loro impegno verso questo Conservatorio in modo, a mio avviso, indimenticabile. Ed è per questo che un'istituzione importante e prestigiosa può dire qui, possiamo dire, dedicato a Tizio Accaio. Oggi abbiamo riconosciuto a Costantini e a Giordani due aule perché questo rimanga come storia dell'identità costruita con tanti impegni di tante persone che hanno dedicato un'intera vita per far crescere i giovani, dando esecuzione al mandato di Rossini che ha voluto proprio verso i giovani concentrare le sue risorse e realizzare questo prestigiosissimo Conservatorio. Questo istituto è un grande libro, è un libro aperto e visitando le sale, salendo le scale per venire al palazzo, ci si rende conto di quante vite siano passate qua e tutte queste vite insieme hanno costruito la storia di questo istituto del Conservatorio Rossini. E c'è una storia, diciamo, storica, quella dei grandi direttori, da Mascagni, Zandonai, Zanella, i grandi cantanti, Mario del Monaco, Renata Tepalti, e poi c'è una storia contemporanea che è la storia, diciamo, del Novecento, la seconda metà del Novecento, dove il Conservatorio ha continuato ad avere figure di primissimo piano che hanno segnato la storia di questi ultimi cinquant'anni. E tra queste sono due figure importantissime, uno appunto è il maestro Marco Costantini, che è stato un docente storico di Fagotto e che ha iniziato a questo strumento quelli che sono poi diventate le prime parti dei grandi teatri internazionali. Quindi Marco Costantini era, ed è tuttora oggi, un punto di riferimento per chi studia questo strumento, quindi è riconosciuto a livello internazionale. L'altra figura che abbiamo voluto ricordare oggi è il nostro collega di musica elettronica, potremmo dire quasi un cofondatore, perché è vero che la cattedra di musica elettronica fu fondata da Walter Branchi, ma in realtà lui arrivò proprio a ruota perché fu uno dei primissimi lievi e portò avanti per 40 anni la musica elettronica a Pesaro. Consideriamo che la scuola di musica elettronica, che ha già più di 50 anni, è stata una delle prime cinque classi di musica elettronica del nostro paese. Ecco, quindi diciamo che tutte e due queste figure, in particolare Eugenio, che era proprio un pesarese doc che frequentava la città in tutte le sue forme, hanno fatto sì che in questa giornata queste due figure siano state riconosciute, oltre che dal conservatorio, anche dalla città rappresentata dal vice sindaco.